Chi è stato eliminato da Amici 17 del 14 aprile Ecco il verdetto finale Prosegue la gara di Cancelletto Amici 17 su Canale 5. . Questa sera è andata in onda la seconda puntata del serale di questa edizione che ha debuttato sabato scorso davanti a 4 milioni di spettatori. Il meccanismo dello show di Maria De Filippi è stato in parte rivoluzionato e questa cosa non è stata gradita proprio da tutti gli spettatori che da casa seguono e commentano la trasmissione su social. I quali si sono lamentati anche per il regolamento ballerino dello show che cambierebbe di puntata in puntata. Il riassunto della seconda puntata di Amici 2018 del 14 aprile. . In questa seconda puntata del serale abbiamo visto che l'ospite d'eccezione è stato Francesco Totti, prendendo spunto dalla clamorosa vittoria della Roma in Champions League di questa settimana. . La De Filippi ha voluto lanciare un messaggio importante a tutti i concorrenti in gara. . Ribadendo loro che nella vita non bisogna mai mollare per il raggiungimento di un sogno e che ci possono stare delle batoste ma al tempo stesso ci possono essere anche dei miracoli che fanno rivedere la luce. . L'ospite musicale della serata, invece, è stato il grande Gianni Morandi che questa settimana si è messo in gioco con i concorrenti della squadra bianca e blu che sono rimasti in gara. . E poi ancora occhi puntati sugli scontri tra i professori della scuola e i commissari esterni dello show, dopo che in settimana ci sono stati una serie di video scoiali infuocati. . Come ad esempio quello di Heather Parisi, che si è schierata duramente contro alcuni professori ma anche contro la collega di commissione, Simona Ventura. . Nel corso della seconda serata di Amici 17 cè stato anche il complimento in diretta di Maria De Filippi nei confronti di Alessandra Amoroso. . La conduttrice ha ammesso di essere molto orgtogliosa quando sente che altri concorrenti di Amici cantano le canzoni portate al successo da Alessandra, così come accaduto questa sera con il brano L'amore altrove che l'amoroso incise con Francesco Renga. . Serale Amici 17 seconda puntata del 14 aprile, ecco il nome dell'eliminato. L'attenzione maggiore, come ad ogni puntata del serale di Amici 17, è incentrata sul nome del concorrente eliminato definitivamente dalla gara. . Al termine della serata la squadra vincitrice è stata quella blu, che per la seconda volta consecutiva ha battuto la squadra bianca. Ad avere la peggio questa settimana è stato il ballerino Daniele della squadra bianca, che questa settimana ha dovuto lasciare la scuola. . La seconda eliminata dalla trasmissione è stata la ballerina Sephora del team dei blu, anch'essa in lacrime. . 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